Si è insediato da poco il nuovo commissario straordinario del comune di Cerignola, Vincenzo Cardellicchio. La città si è trovata negli ultimi giorni a dover affrontare un'emergenza legata al Covid. I numeri hanno penalizzato la città di Cerignola e nello stesso tempo però la reazione a questi numeri è stata immediata e con un po' di anticipo abbiamo penalizzato i nostri concittadini all'impiego delle mascherine ma è lo strumento principe per difenderci. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, svoltosi eccezionalmente a Cerignola, ha ribadito lo sforzo dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata e l'attenzione non solo alla quotidianità. Anche ad episodi di una gravità inaudita che non possono essere archiviati come soliti, come già vissuti, ma che devono allarmare ogni volta che accade. Cardellicchio si dice ottimista anche sulle capacità di risposta delle realtà produttive alle infiltrazioni mafiose. Un'economia che ha capacità di sviluppo come quella di Cerignola, parlo in particolare di quella agricola, ha gli strumenti per difendersi. La città insomma ha tutte le risorse per superare questo periodo difficile. Sono sicuro che il territorio di Cerignola ha le potenzialità per riscattare questa pagina opaca della sua brillante vita.